Un 45enne italiano incensurato è stato arrestato ieri sera dai carabinieri della stazione di Caorso per detenzione di sostanze stupefacenti e fini di spaccio. Da alcuni giorni i cittadini di Fossadello segnalavano alle forze dell'ordine movimenti sospetti nelle vie adiacenti alle loro abitazioni, con andirivini di autovetture e persone a piedi, movimenti riconducibili a una presunta attività di spaccio. Nel corso di un controllo i militari hanno trovato un residuo di spinello nel posacenera di un'automobilista. La successiva perquisizione a casa dell'uomo ha permesso di rinvenire 135 grammi di marijuana occultata in un contenitore accuratamente nascosto nel ripostiglio e 25 piante della medesima sostanza stupefacente lasciate ad essiccare nel sottotetto. Tutta la droga è stata sequestrata e il 45enne portato nella caserma di Caorso. Dopo le formalità diritto l'uomo è stato arrestato e condotto di nuovo nella sua dimora agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria.